malvezzi quotidiani l'economia umanistica spiegata bene secondo il congiuntura flash di maggio del centro studi di confindustria l'italia sta registrando una crescita nel secondo trimestre anche sia ritmi più moderati in un contesto internazionale in cui si registra ancora una volta una situazione di grande debolezza dell'eurozona la produzione industriale dell'area scivola a marzo portando il primo trimestre in negativo mentre la manifattura si mantiene sotto i lavori di inizio del 2021 negli stati uniti è ripartita l'industria mentre in cina frena la crescita e cresce invece l'india la crescita italiana è tirata solo dai servizi in particolare dal turismo ma l'industria si limita a resistere la domanda estera non tira più l'inflazione è persistente portando ad un aumento dei tassi di interesse e a una diminuzione dei prestiti da parte delle banche la dinamica dei profitti unitari in italia presenta delle proprie caratteristiche rispetto all'europa con una crescita molto più bassa per l'insieme dell'economia l'erosione dei margini nella manifattura può frenare la crescita degli investimenti in italia perché riduce la capacità di autofinanziamento delle imprese a ciò si aggiunge che le disponibilità liquide cioè la cassa sono in calo e il credito bancario verso le aziende come io avevo previsto si sta riducendo dunque e questo è grave non vi sono nei bilanci delle imprese italiane delle risorse facilmente utilizzabili per fare nuovi investimenti e senza nuovi investimenti non si fanno posti di lavoro e quelli privati in italia come nelle economie avanzate sono realizzati soprattutto dalle imprese 27 per cento e in parte minore dalle famiglie scusate 73 per cento le imprese in parte minore le famiglie 27 per cento ora questa è la fotografia italiana del 2023 non mi stupisce ve l'avevo detto vi avevo avvisato purtroppo continuo ancora a sentire parlare di mess continuo ancora a sentire parlare di strumenti finanziari continuo ancora a sentire parlare di questa folle gabbia che chiamiamo unione europea e non vedo nel mondo politico nessun segnale di cambiamento io lo voglio dire in una mia relazione alla camera che farò in un convegno e lo voglio dire a chiare lettere che o si dà un segnale di discontinuità oppure noi all'interno del panorama europeo siamo quelli destinati a perdere ciò che di più importanti abbiamo il comparto industriale fatto di piccole e medie imprese quelle che io tutti i giorni vedo per lavoro e per professione e loro mi dicono che non credono più nella classe politica pensateci malvezzi quotidiani l'economia umanistica spiegata bene